buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video è passato un po di tempo da quando io ho acquistato l'S21 ultra quindi era doveroso diciamo doveroso mi sento in dovere di fare questo video ovvero 5 motivi per comprare s21 ultra e 5 per snobbarlo ovvero saltare al prossimo dispositivo beh che c'è da dire che comunque l'S21 ultra è un grande dispositivo infatti qualcuno mi chiedeva sull'andamento della batteria in questi giorni e vi posso confermare che in base al mio uso che comunque non è effettivamente molto molto intenso specialmente perché andando a lavoro in auto io lo collego ad android auto in macchina quindi necessariamente si caricherà in auto non poi non potendolo utilizzare a lavoro perché o si lavora o si gioca al telefono e non è una cosa regolare giocare al telefono mentre si lavora allora quindi il mio uso non è molto gravoso è infatti con quel tipo di utilizzo specifico ovvero poco uso al lavoro ricariche durante android auto di circa una ventina di minuti all'andate a ritorno io riesco a fare potrei fare circa due giorni pieni col telefono ovvio senza ricaricarlo nella notte precedente ovviamente non è una cosa che faccio perché comunque sebbene il telefono sia il 50 per cento lo carico lo stesso fino al 100 per cento fino al giorno dopo non sarebbe una cosa da fare perché comunque la batteria potrebbe risentire di questo cariche scariche che non arrivano cioè non sono nel range 80 20 per cento però ovviamente si fa quel che si può allora vediamo quindi subito i motivi per comprare s21 ultra allora innanzitutto partiamo da quello che abbiamo di fronte ovvero lo schermo lo schermo è sublime e i 120 hertz rendono l'esperienza d'uso molto migliore rispetto ai dispositivi precedenti nel quotidiano infatti come vedete ovviamente il video sarà a 30 fps forse 60 non ricordo bene l'impostazione che ho dato però appunto il dispositivo visto ad occhio nudo visto in persona è un dispositivo coi fiocchi perché i 120 hertz rendono questo dispositivo una meraviglia per gli occhi e non soltanto comunque una meraviglia per gli occhi nel quotidiano perché anche nei giochi è possibile sfruttare i 120 hertz e infatti utilizzando la penna andiamo in subway surfer che si sta riavviando perché comunque è passato molto tempo da quando l'ho utilizzato l'ultima volta dovete fare caso a questo indicatore qui in alto al momento siamo a 73 vedete ora siamo a 118 116 e durante il gioco arriviamo ai massimo 120 fps ovviamente la penna nel gioco non funziona ma dovrete utilizzare necessariamente le dita quindi per esempio facciamo una piccola sessioncina di gioco questo subway surfer è soltanto uno dei tanti giochi che possono sfruttare i 120 hertz come vedete siamo anche a 121 fps non tutti quanti i giochi possono sfruttarlo ad esempio anche pokemon go può sfruttarlo però con un però nel senso che il gioco nativamente è bloccato a 30 fps ma se si carica il gioco questo viaggerà stranamente a 60 fps non si capisce io non riesco sinceramente a capire il motivo perché comunque il gioco era bloccato nativamente a 30 fps non c'è nessuna impostazione che permette di farlo girare a 60 fps ma magari forse sarà il game booster di samsung che permette di farlo girare a 60 fps ma effettivamente è così poi passiamo al secondo motivo ovvero la fotocamera la fotocamera infatti è un qualcosa di spettacolare ve lo giro perché così vediamo il modulo fotocamera ecco qua il modulo fotocamera con le nostre belle quattro fotocamere abbiamo infatti la ve lo ricordo se non avete visto la recensione abbiamo la principale da 108 megapixel in mezzo la grande angolare da 12 megapixel la zoom 3 per da 10 megapixel e la periscopio 10 megapixel 100 per digitale con zoom ottico 10 per per quanto riguarda gli scatti ve ne ho fatti già vedere tantissimi per nel in fase di recensione ma appunto se voleste vedere qualche scatto vi posso far vedere qualche scatto effettivamente realizzato con questo dispositivo e in particolare vorrei farvi vedere quelle che sono le foto fatte alla luna e in particolare dei collage che ho realizzato personalmente perché sono foto mie appunto in questo modo ok come potete vedere appunto questo è un collage del della prima fase lunare della prima metà ovvero primo quarto secondo quarto eccetera eccetera vabbè ovvio non conosco le fasi lunari probabilmente sto dicendo anche alcune castronerie però come potete vedere della luna si riescono a vedere benissimo i dettagli specialmente se passiamo poi alla seconda parte del collage dove abbiamo la luna piena e dove appunto c'è stato anche il fenomeno della luna blu che però non si chiama luna blu eccetera 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 bla 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 che non ci interessa però appunto come potete vedere ampiamente e si vedono i dettagli della luna la foto con lo zoom 100 per non sarà la più carica di dettaglio la più nitide in assoluto però vi sfido a chiunque a realizzare uno scatto migliore con un dispositivo di pari fascia di prezzo per esempio vedete iphone che si spinge al massimo a 12 per nella configurazione del pro max che appunto non riuscirà mai a farvi ottenere foto della luna di questo tipo e costa lo stesso quanto questo dispositivo quindi le capacità di fotografia di questo telefono sono indiscutibili perché sono tra le migliori in assoluto sul mercato specialmente poi se parliamo delle foto a 108 megapixel che sono ricchissime di dettagli e parliamo anche poi della capacità appunto delle cap della possibilità di effettuare scatti macro con il dispositivo perché mette insieme la camera principale e la camera grande ultra grandangolare per andare a combinare lo scatto e creare uno scatto macro quindi poterci avvicinare molto al soggetto vediamo se riesco a farvela vedere in azione al momento ecco come potete vedere se noi ci avviciniamo al soggetto abbiamo il focus in answer come potete vedere io mi avvicino veramente tantissimo al soggetto e la foto resta a fuoco e posso fare scatti senza problemi e come vedete catturerò ogni singolo dettaglio di polvere che è presente su questo accessorio di terze parti per quanto riguarda invece il terzo motivo beh il terzo motivo ce l'abbiamo davanti non è sempre il display perché del display ne abbiamo già parlato ma è il design il design di questo telefono è unico foro centrale quindi simmetrico così farà felici tutti quanti gli amanti dei dispositivi simmetrici visto che appunto con s10 la sua camera spostata di lato non faceva contenti più e poi anche il la finitura nero opaca al posteriore e anche il corpo metallico che si allunga fino alle fotocamere per dare una protezione aggiuntiva al corpo camera che è strabiliante e unico nel suo genere e il colore opaco è veramente una goduria per gli occhi perché non attira le impronte digitali ed rimane pulito per tantissimo tempo poi parliamo di un altro motivo ovvero il quarto nella nostra lista che corrisponde alla s pen s pen che al momento ho perso ma che appunto vi garantisco che è compatibile con questo accessorio hanno ce l'avevo davanti agli occhi che è compatibile con tele accessori infatti se noi spegniamo e blocchiamo il telefono avremo tutte le funzioni di uso a schermo spento questo ovviamente non è la penna di s21 ultram è la penna del note 10 plus se noi premiamo il pulsante e premiamo sullo schermo avremo la possibilità di attivare la nota a schermo spento ovvero questa e tutte le altre funzioni della penna tranne quelle bluetooth ovviamente ovvero lo scatto remoto lo scatto a distanza le gestore a distanza per scorrere per esempio tra le foto i documenti ma quelle sono più funzioni di nicchia che nessuno va ad utilizzare o almeno quasi nessuno va ad utilizzare ora parliamo poi infine dell'ultimo motivo il quinto motivo per comprare s21 ultra ovvero l'autonomia sì perché effettivamente come vi ho già detto nel quotidiano si comporta molto bene il deep sleep del dispositivo è ottimo perché quando non è utilizzato il dispositivo va in deep sleep e permette di conservare tanta carica della batteria per quando ne avete più bisogno e quindi rispetto ai modelli precedenti io mi riferisco in particolar modo ad s20 ultra e a note 20 ultra che non erano dei campioni di autonomia il galaxy s21 ultra fa un passo in avanti molto molto importante sull'autonomia riportandosi quasi ai livelli del note 10 plus che appunto è il mio dispositivo precedente con cui lo comparo direttamente e il dispositivo presenta una buona autonomia ovviamente non è dei migliori perché poi d'altronde lo si sa se comprate un samsung non lo fate per l'autonomia ma lo fate per le capacità fotografiche per le performance e per tutte le funzioni aggiuntive che solo samsung offre o anche per la per la sola compatibilità con la penna per dire vediamo invece ora alla parte contro perché la parte contro offre ben altri cinque motivi anche loro molto importanti per cui dovreste effettivamente snobbare s21 ultra ad esempio il primo motivo è la memoria espandibile è assurdo come su un dispositivo da 1329 euro samsung non offre all'espansione di memoria siamo ritornati alla stessa situazione vista con s6 edge in cui s5 offriva la memoria espandibile s6 non la offriva più e poi è ritornata ed è rimasta da s7 in poi ma ora qui non è più presente ovviamente nel mio caso specifico non fa tanta differenza perché io non ho mai usato micro sd esterne perché i 256 giga di memoria o i 128 e 64 giga di memoria che avevano nei dispositivi precedenti mi bastavano infatti ora sono sui 110 giga sui 256 disponibili quindi non ho problemi di memoria perché appunto non l'occuperò mai tutta poi passiamo al secondo motivo che è un motivo molto molto importante perché è pesante il telefono è pesante pesa quasi 230 grammi e nell'uso quotidiano se comparato ad esempio con il note 10 plus che pesava meno di 200 grammi e aveva effettivamente le stesse dimensioni il dispositivo pesa tanto e nell'uso quotidiano può farsi sentire anzi si fa sentire sicuramente questo suo grande peso se poi aggiungete anche una cover o ad esempio banalmente la cover in silicone che vi offre che non è che vi offre samsung che dovrete comprare a parte da samsung va ad aggiungere spessore in più al dispositivo che già di 8.9 mm quindi si va ulteriormente ad aumentare con l'aggiunta della cover e infine appunto c'è tutta quella questione sul peso che si sente durante la giornata inoltre poi parliamo dell'altro motivo come la s pen è una mano santa per il dispositivo perché effettivamente lo rende compatibile con la se come successore della serie note se effettivamente ci sarà un note l'anno prossimo o meno non lo sa lo sapremo solo vivendo ma questa compatibilità con la penna è gioie e dolori perché se volete la penna l'unico accessorio compatibile che potrete comprare è la s pen di samsung non ce ne c'è ovvio ci sono le penne bluetooth le penne touch compatibili ma non hanno le funzioni della penna di s della s pen e se volete comprare la penna dovrete comprare una cover in silicone che offre un alloggiamento laterale per la penna e sebbene la cover sia già abbastanza spessa aggiunge un ulteriore spessore per contenere la penna e quindi sicuramente è un motivo per snobbare questo dispositivo perché perché se volevano effettivamente ottenere una compatibilità con le spen potevano effettivamente introdurlo già all'interno del dispositivo e renderlo un note di serie senza troppi grattacapi ovviamente non hanno fatto perché il note precedente aveva meno di sei mesi e quindi avrebbe fatto infuriare i fan della serie note che si sarebbero visti rimpiazzare il proprio dispositivo dopo appena sei mesi poi la velocità di ricarica rapida non raggiunge i concorrenti di altri marchi beh sì se siete di fretta e avete bisogno di caricare il vostro dispositivo con la massima ricarica disponibile lui vi offre una ricarica cablata a massimo 25 watt non di più per esempio il note 10 plus offriva anche i 45 watt che però non erano questo grande aumento di di caricamento perché era di solo 7 minuti più veloce però quei 7 minuti potevano già fare la differenza invece qui no si è perso tutto la ricarica rapida massima e a 25 watt con un caricamento del dispositivo in più o meno un'oretta un'oretta e qualcosa quindi se volete la massima ricarica disponibile dovrete cercare altrove poi invece un altro tasto dolente che si rifà alla voce precedente ovvero la ricarica sempre perché dalla confezione è scomparso il caricatore a muro ma è presente soltanto un cavo usb c usb c adattandosi quindi al nuovo trend messo in campo da apple allora su questa storia io ci ho già parlato ho fatto già un video a parte però brevemente se voi volete un cavo originale un caricatore originale dovrete spendere dei soldi per poterlo acquistare almeno dal punto di vista della del commercio samsung vi viene incontro perché i suoi caricatori costano molto poco infatti si trovano a circa 10 euro o 15 euro con alcune offerte online su amazon per gli utenti che l'hanno acquistato l'S21 Ultra all'inizio c'era la possibilità di riceverlo proprio a 10 euro 999 con un coupon speciale sul sito samsung mentre invece ora si dovrà comprare a prezzo pieno che comunque non è tanto perché è di 25 euro mentre invece apple offre il caricatore rapido a 35 euro quindi 10 euro in più tutto questo quindi per dire che s21 Ultra dà gioie e dolori perché il dispositivo è un ottimo dispositivo è ancora forse il migliore telefono tra tutti quelli usciti quest'anno in attesa ovviamente dei prossimi iphone che però sono un mondo a parte non sarebbero nemmeno da paragonare se voi volete quindi comprare s21 Ultra io vi ho dato 5 motivi per comprarlo se invece odiate s21 Ultra vi ho dato 5 motivi per odiarlo ancora di più quindi ci vedremo in un prossimo video un saluto a tutti da real user 101